Che vuol dire essere cristiani? Nel Vangelo di Luca si racconta un episodio che ha come protagoniste due sorelle, Marta e Maria. Gesù va a trovarla a casa. Sono amici e probabilmente è normale per lui fermarsi a salutare quella famiglia quando passa da quelle parti. Tra le due sorelle si capisce che la prima genita è Marta, una donna pratica, molto attiva, che si dà da fare. Quando arriva Gesù a casa loro, Marta si mette subito all'opera per preparare la cena. Maria invece si siede tranquillamente ai piedi di Gesù e ascolta la sua parola. Marta allora si lamenta con Gesù, non vedi che Maria mi ha lasciata da sola a preparare, non sta facendo niente, dile ad aiutarmi. Gesù però le risponde, Marta, Marta, tutta affanni ed agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore. Marta pensa di dover preparare una bella cena per accogliere il Signore e pensa di stare facendo la cosa più importante. E invece sbaglia, è Maria che sta facendo la cosa più importante, stando ferma e seduta ad ascoltare Gesù. Allora, la frase di Gesù è molto bella, di una cosa sola c'è bisogno, cioè una cosa sola è necessaria, essenziale. E che cos'è? È una domanda importante. Cos'è essenziale nella vita? Di cosa non si può fare a meno? E dato che stiamo parlando di una frase di Gesù, è come chiedersi cos'è essenziale nella vita cristiana? Che vuol dire in fondo essere cristiani? Ci sono diverse risposte. Alcuni dicono che l'essenziale nella vita è la fede e che essere cristiani vuol dire credere, credere in Dio Padre, in Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Hanno ragione. Nell'Evangelio Gesù parla molte volte dell'importanza di credere. Ricordate l'episodio dell'Apostolo Tommaso che sente che Gesù è risorto, ma se non lo tocca non crede. Gesù appare e gli dice toccami Tommaso e non essere incredulo ma credente. Altri però rispondono che l'essenziale nella vita è l'amore e che essere cristiani vuol dire amare. E anche loro hanno ragione, perché Gesù ha detto Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni gli altri. Altri ancora rispondono che invece l'essenziale nella vita sono i sacramenti e che essere cristiani vuol dire andare a messa, confessarsi, eccetera, eccetera. E come dargli torto? Nell'ultima scena Gesù ha detto Fate questo in memoria di me. E da allora ogni domenica la Chiesa celebra l'Eucarestia. Infine alcuni dicono che l'essenziale nella vita è la preghiera e che essere cristiani vuol dire pregare molto. Eppure loro hanno ragione, perché Gesù pregava molto, anche tutta la notte a volte, e insegnava i discepoli a pregare sempre, senza stancarsi mai. Di queste quattro risposte, qual è quella giusta? Chi ha ragione? Tutti e nessuno. Tutti hanno ragione, perché la fede, i sacramenti, l'amore, la preghiera sono davvero fondamentali. Non si può vivere senza. Ma nessuno ha ragione del tutto, perché nessuna di queste cose è l'essenziale del cristianesimo. Nessuna di queste cose è quella a cui si riferisce Gesù quando dice di una cosa sola c'è bisogno. Perché l'essenziale del cristianesimo è lui stesso, Gesù, il Signore, il Figlio di Dio, che si è fatto uomo, che è morto ed è risorto per noi. Lui che ci ha fatto conoscere Dio Padre, Lui che ha portato in cielo la vita umana e dal cielo ha donato lo Spirito Santo. Gesù è l'unica cosa necessaria nella vita. Di una cosa sola c'è bisogno, di essere uniti a Lui, con la fede, con i sacramenti, con l'amore, con la preghiera. Quindi queste quattro cose sono i quattro modi fondamentali per essere uniti a Cristo. Per questo sono anche le quattro cose che ci rendono cristiani. I cristiani credono, celebrano, amano e pregano. Se uno ha molta fede ma non prega, manca qualcosa al suo rapporto con Gesù. Se uno ama gli altri ma non va a messa, manca qualcosa al suo rapporto con Gesù. E così via. Questi atti sono come quattro gambe di una sedia. Devono essere tutte e quattro, altrimenti la sedia non regge. Ma si può crescere, si può imparare a credere, si può imparare a celebrare, ad amare e a pregare. Di una cosa sola c'è bisogno nella vita ed è Cristo, Cristo Signore. Grazie a tutti.